Da lunedì prossimo l'isola pedonale estiva sarà a realtà. L'area pedonale urbana temporanea riguarderà Corso Federico II da Via dei Giardini a Piazza Duomo, la piazza stessa e altre vie del centro storico. Sarà dalle 19 alle 24 nei giorni infrasettimanali, dalle 11 del sabato alle 24 della domenica. Un provvedimento atteso da alcuni ma non condiviso da altri, soprattutto in alcune zone come Via Garibaldi. Nelle ultime settimane questo argomento ha alimentato il dibattito cittadino, con i favorevoli e contrari ad una pedonalizzazione più massiccia del centro storico, una situazione condita a volte dalle proteste di famiglie turistico stretti a slalom tra le auto. L'accordo raggiunto è una via di mezzo perché la proposta iniziale era quella di chiudere alle 18. Speravo che partissi anche prima, veramente. Ringraziamo il Comune per questa novità e speriamo che questa esperienza di quest'anno, che parte dalle 19 in poi e il weekend soltanto tutto il giorno, che diventerà una cosa stabile anche permanente tutto l'anno, anche H24 perché vedere la piazza senza macchine e il centro storico percorribili a piedi è bellissimo. Non so, né favorevole né contraria, perché tanto comunque la parte questa della città, a partire dalla villa, è deserta. È deserta sia di giorno che di sera, perché io sto qua fino a mezzanotte e non ci sta nessuno proprio. Pochissime persone, anche che vanno a mangiare il gelato, per cui secondo me non cambia niente. La platea dei favorevoli è abbastanza ampia, anche se qualche resistenza ancora c'è, perché molti, compresa la Confcommercio, dicono che va bene, ma serve una programmazione adeguata anche per i parcheggi di scambio. A sentirsi penalizzati invece sono alcuni esercenti di via Garibaldi, che contestano soprattutto il provvedimento nel weekend. Considerando che questi negozi sono di vicinato e di solo asporto, sono penalizzati perché se il cliente, che noi la maggior parte della clientela, l'abbiamo da fuori centro storico, perché questi sono negozi di vicinato, ma non sono negozi di vicinato, perché il vicinato non lo abbiamo, perché da causa movita sono spariti tutti. Quindi la nostra clientela viene da fuori centro storico, quindi la possibilità di avvicinarsi, arrivare con la macchina sul posto è necessaria. Il risultato penale è giusto, per carità, mi piacerebbe pure a me, però noi, la mia macelleria, i clienti qui nel centro sono pochissimi. I miei clienti vengono dai navelli, vengono dalla Rocca di Mezzo, da Pizzoli. Poveretti, mi succede più di una volta, che arrivano il pomeriggio dopo le sei, c'è tutto il pieno dei tavolini, non perché non debbano lavorare, non hanno il posto neanche per fermarsi, se ne vanno.